La procura e i carabinieri di Foggia hanno dato scaccomato alle ferata banda di rapinatori composta da Foggiani e Sanseveresi. L'operazione Gold Rush messa a segno questa mattina ha portato all'arresto di sette persone, alcune delle quali appartenenti al clan sinesi Francavilla. Nel video prodotto dagli inquirenti è emersa tutta la spregiudicatezza del gruppo criminale che assaltava soprattutto gioiellerie e che arrivò a compiere una tentata estorsione nei confronti di un cittadino che sventò una rapina. Centrale nell'inchiesta il colpo da 365 mila euro la gioielleria Foglie d'Oro di Lucera all'interno del centro commerciale Antica Fornace. Secondo gli inquirenti ci sarebbero molti elementi che collegherebbero la banda anche alla rapina perpetrata nella gioielleria Sarni Oro del centro commerciale Granda Puglia d'Incoronata. Per i sette malviventi sono quindi scattate le manette per i reati commessi a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata la commissione di rapine, ricettazione, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo.